benvenuti a tutti da rosa allora oggi ecco qua quello che vi propongo che un orecchino veramente molto molto semplice da realizzare vedete con la differenza che invece di mettere la monachella ho messo quest'altro tipo di rancetto insomma ecco così il fiorellino più attaccata al lobo ed è secondo me molto carino li ho provati all'orecchio e mi piacciono non so se della camera si vede ma sono color senape perché insomma il senape quest'anno insomma ho trovato parecchie cosine con quel colore da abbinare niente è molto semplice sono in realtà due fiorellini con lo stesso procedimento con una differenza di punto ovviamente e quindi uno viene più grande l'altro più piccolo quindi ovviamente potete fare con questo sistema anche degli anellini potete utilizzare un solo fiore anche qui vedete qui ne ho fatto uno ovviamente mettere la monachella quindi semplicemente la monachella quindi ad orecchino semplice oppure vedete assemblarli come vi faccio vedere nel video perché secondo me è molto carino niente passiamo il tutorial allora iniziamo il nostro modello di orecchino con l'anello magico in questa maniera qui una catenella due fili sull'uncinetto in questa maniera qui e andiamo a lavorare una doppia maglia alta ecco di nuovo una doppia maglia alta di nuovo una doppia maglia alta quindi 1 2 3 1 2 3 mai arte di nuovo un'altra maglia alta quindi quattro doppie maglie alte ecco di nuovo due fili sull'uncinetto e andiamo a lavorare quattro doppie maglie alte e questa è la prima di nuovo un'altra ancora un'altra ad arrivare a quattro doppie maglie alte ancora ora te ne ho se quattro mai doppie maglie alte una maglia bassissima quindi lavoriamo 1 2 3 4 e 5 5 serie da quattro doppie maglie alte chiudendo sempre a maglia bassissima allora lavorate le nostre vedete cinque sequenze 1 2 3 4 5 da quattro doppie maglie alte chiuse sempre con una maglia bassissima lasciamo un po di filo poi andiamo a chiudere vedete il nostro anello allora chiudete più stretto ovviamente che potete il vostro anellino prendiamo il filo che andiamo a tagliare più abbondante tiriamo questo così e io faccio sempre il punto di chiusura lo sapete in una certa maniera quindi se volete farlo pure voi lo sapete che c'è anche un video e lo ripeto molto spesso questa cosa faccio a ricreare praticamente ed eccomi qua scusate ed ecco qua che il nostro fiorellino è fatto ok prendiamo il nostro ago ovviamente e andiamo a chiudere i punti facciamo un modino e taglia c'è un e due per sicurezza e andiamo a tagliare ed ecco qua ora io ho comprato questi vi faccio vedere qui in una merceria cinese insomma in un mercatino cinese vedete mettete c'è anche una puntata di colla a caldo ovviamente adesso nel video non la metto però è meglio che la mettete ed ecco qua che il nostro primo fiorellino è fatto ok adesso passiamo al fiorellino ovviamente più piccolino che sarà questo qua quindi questo è il grande e questo è più piccolino vedete andiamo a realizzare adesso questo più piccolino sempre anello magico in questa maniera qui una catenella filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare tre maglie alte quindi uno 2 e 3 e ci vediamo maglia bassissima di nuovo filo sull'uncinetto 1 2 e 3 my heart e di nuovo ci chiudiamo a maglia bassissima quindi per il fiorellino piccolo andremo a fare cinque sequenze quindi 1 2 3 4 e 5 seguente di 3 maglie alte chiuse sempre a maglia bassissima arrivate che abbiamo fatto la nostra sequenza facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima quindi tiriamo il nostro filo per stringere quanto più possiamo stringere ovviamente c'è sempre tiriamo questo finino andiamo a chiudere il nostro punto ovviamente qui potete diciamo un po chiudere come volete non è che c'è proprio una regola perché in genere scusate mi sono davanti che si vede molto deve fare per in questa maniera qua e vedete voi insomma basta che chiudete in maniera che il fiorellino venga bene sistemate un po nelle manine ovviamente ed ecco qua ora facciamo sempre un nodino qui dietro per fermare il filo bene bene facciamo due è meglio e andiamo a tagliare i nostri fili ecco qua adesso riprendiamo la perlina e la mettiamo al centro vedete quindi prendiamo il nostro fiore grande ed ecco qui vedete che uno è più grande e l'altro è ovviamente più piccolino ok adesso come facciamo prendiamo la colla a caldo e metteremo un puntino di colla a caldo qui e qui e le sembriamo insieme quindi prendiamo un pochino di colla a caldo non molto ovviamente giusto un pizzichino qua prendiamo il fiorellino e adagiamo vedete maniera leggera facciamo un po di leggera pressione quindi il fiore deve essere ben attaccato ovviamente però non deve essere esageratamente vedete di colla perché altrimenti si vede dietro poi quando andiamo quindi fissate lo in maniera che c'è un altro pochino di colla ce la mettiamo ecco qua e andiamo a fissarlo bene 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 ecco adesso sì ok ecco qua ora differenza del modello che ho fatto il video precedente qui possiamo andare a mettere anche questi vedete perché praticamente questa parte qua andrà vicino al lobo e quindi l'orecchino è più a più stabilità ovviamente quindi mettiamo della colla qui allora io con questo tipo di di gancio sono andata bene però vi dirò che a volte alcuni ganci del genere non vanno bene quindi dovete procurarvi dei ganci una colla diversa perché alcune colle a caldo con il con il metallo non attaccano diciamo si staccano molto facilmente quindi voi andate a vedere proprio questa cosina qui ed ecco qua vedete che carino l'orecchino è venuto veramente molto molto carino quindi dietro sarà così vedete cercate di farlo quanto più pulito è possibile ovviamente se a qualcuno piace un po più lungo ovviamente potrebbe fare anche così e insomma dipende dai gusti e ovviamente niente io spero che anche questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete mi piace e al prossimo video